buonasera buonasera a tutti vedete vedete con chi mi trovo stasera ragazzi certo con tre personaggi con tre personaggi è veramente de cacce come dice lo dominicano de cacce ragazza mente della famiglia simpson omer grande jeje è più grande che c'è jeje è bravissimo è ragazzi cosa ci raccontate ci raccontiamo che a breve usciremo al cinema con un film della regia di rocco marino giovanni albini daniele ugoni fotografo e nonché operatore della veleno production collega tra l'altro e amici perché l'amicizia nel lavoro e te parlare di jeje oggi che sa compleanno che oltretutto è il nostro attore io si ringrazio è stato lavorare con loro è una cosa stupenda poi avere rocco come regista è una cosa fantastica e io sono molto fiero di quel ragazzo perché è molto giovane e ha tanta stima di me e io ho stima tanta per tutti loro e fra poco fra poco arriverà il nostro regista rocco che a breve anche lui lo intervisteremo è un regista giovane ma con grandi idee 2016 nel 2017 scusate l'emozione io non sono abituato a star davanti le telecamere come tu sai e si va beh ogni tanto vabbè stavo recitando la parte sai noi attori allora no a parte scherzi è un regista giovane con tante idee nel 2016 nel 2017 usciremo al cinema con un film molto 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 interessante bello quindi vi invito a seguirci sulla nostra pagina sono emozionato si sente ma è strano non è lo sapete perché perché giovedì devo fare videoclip in costume con loro allora ecco perché sono così emozionati capito per quello va bene ok allora seguiteci daniele dillo che chiudere stiamo facendo troppo tardi siamo dilungando troppo ringraziamo questa intervista indiegogo mi sembra dove ci devo seguire anche no quella è un'altra cosa che parleremo poi e viva e viva posso sì auguri e viva la patata grazie ragazzi di essere qua il compleanno di gg ciao bella gente se vediamo grazie a tutti